Per poco prima che esplodesse il caso Marino in tutto e per tutto, tu hai scritto un pezzo, in autunno arriva la carica dei 101, chi sono questi 101? Sono politici e dipendenti del comune, sono dirigenti, capi dei dipartimenti, sono persone che non tutti sono stati indagati ancora, non sono indagati e rimarranno non indagati finché la relazione del Prefetto Magno rimarrà segreta. Questa relazione del Prefetto Magni dice il condizionamento si è realizzato secondo schemi e copioni non intaccati dal cambio di amministrazione determinato dalla Giunta, però vuol dire sostanzialmente che da Alemanno a Marino poco è cambiato. La mafia cambia pelle, la mafia si adegua, è la forma dell'acqua, con Alemanno è un metodo mafioso, è l'individuazione mafiosa che loro mettono in pratica. Quando si arriva a Marino, ecco, arriva il metodo, sì mafioso, ma è la corruzione l'arma. E loro vanno a bussare alla porta di ogni singolo consigliere comunale che non dice no alla mazzetta, ma soprattutto vanno ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti, ai funzionari. Immaginate che in questi tre anni complessivamente lavori, gare d'appalto in affidamento diretto di 5 miliardi di Euro sono finiti nelle mani delle cooperative di Buzzi e di Carminati, dati in affidamento diretto. Allora, ecco, questo in Sicilia avremmo chiamato in Calabria mafia, cosa nostra, andrangheta. A Roma ancora non si dice, però è corruzione, ma corruzione è di altissimo livello. Secondo te Roma andava sciolta per mafia? Con la legge attuale per lo scioglimento dei comuni no, perché? Se tu mandi a casa i politici, il consiglio comunale, poi tutto il resto c'è il vero ingranaggio della corruzione mafiosa, cioè i capi dei dipartimenti, funzionari, dirigenti che sono, come dice Isabella, o sono corrotti o sono incapaci perché non fanno bene il loro lavoro, quello sarebbe rimasto tale e quale. Per cui avremmo ottenuto uno sfaceilo politico di immagine enorme, ma il risultato sarebbe stato zero, cioè la mafia o l'attività mafiosa avrebbe continuato a procreare, nutrirsi e guadagnare dalla pubblica amministrazione. Però il punto è che questi 101 di cui tu parli sono ancora lì, fra politici e dirigenti. Bravissimo, e questo è il problema, stanno ancora lì, rimarranno lì, se li ritroveranno ancora. Il prossimo sindaco se li ritroverà. Per cui questi 101 è lì, sono il virus che è ancora dentro la macchina amministrativa del Comune.